Ciao, sono Roberto Nido di Grazia, oggi vi presento il nuovo seggiolino auto di Cybex, è un seggiolino omologato 9,36 kg da 1 a 12 anni di età, è un seggiolino che è estremamente sicuro nella sua categoria, più sicuro rispetto a seggiolini con cinture a 5 punti, mediante il suo cuscino ha due grossi vantaggi, l'assorbimento d'urto frontale che garantisce il massimo comfort e la massima sicurezza, evita i traumi alle spalle e alla testa proteggendo il bimbo sull'addome, semplice da reclinare con una mano in posizione nanna, regolabile in tre posizioni l'appoggiatesta, si installa semplicemente con la cintura dell'auto senza stringere il bambino all'interno, è installabile su tutte le auto, sia che siano dotate di cinture di sicurezza a tre punti che con il nuovo sistema Isofix. Per ulteriori informazioni contattateci telefonicamente oppure visitate il nostro sito e-commerce www.nidodigrazia.it